Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come È stata scelta la conduttrice per la prima edizione del format che approderà nella prima serata di canale il prossimo 23 marzo 2022 Aggiornamento Simona Ventura ha confermato l'indiscrezione su Instagram, ebbene sì, con mia grande gioia accetto l'invito di Maria De Filippi ad essere testimoni di ultima fermata in partenza su canale 5. Grazie alla RAI per avermi concesso questo prestito e a Mediaset per la fiducia In queste settimane si è spesso parlato di ultima fermata, il programma che arriverà su canale 5 il prossimo mercoledì 23 marzo 2022 Il nuovo format, che vedrà al centro della scena varie coppie che metteranno in discussione i loro sentimenti, farà compagnia agli italiani in prima serata Si tratta di una trasmissione made in fascino che negli anni ha sempre cercato di emergere, ma che ha trovato spazio sulla rete Mediaset solo ora Inizialmente si pensava che sarebbe finita su Italia 1 e, in secondo momento, si è scelto di collocarla nel prime time di canale 5 Sarà Simona Ventura la conduttrice di ultima fermata, questa la scelta di Maria De Filippi La nota presentatrice, già presente al timone di Temptation Island VIP in passato, condurrà le varie puntate e farà anche da voce narrante Pertanto, sarà lei a raccontare le storie delle coppie protagoniste di questa prima edizione dello show, secondo quanto riporta il blog Attualmente, l'avventura conduce con Paola Perogol Varietà della Domenica di Rai 2, ovvero titofonare Rai 2 Ora è pronta a tornare ad affiancare Queen Mary, la quale resterà dietro le quinte, come accade con Temptation Island Il percorso fatto in Rai in questi ultimi tempi la riporta a lavorare con Maria, su Canale 5 La rete media se potrebbe, inoltre, dare le chiavi di un altro programma a Simona Ventura Su questo, però, non si sa molto Senza ormai alcun dubbio, ultima fermata la ripropone nella prima serata L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 marzo su Canale 5, subito dopo striscia la notizia Ultima fermata parte, ma che fine farà Temptation Island? Ci sono ancora dubbi sul destino di Temptation Island per questa estate 2022 La situazione sul reality delle tentazioni appare, al momento, ancora poco chiara Si è parlato, di recente, di una eventuale cancellazione, dovuta ad alcuni problemi che riguarderebbero i diritti del formato originale Dopodiché, è stato svelato che Maria De Filippi non rinuncerà al reality Nonostante ciò, tutto resta ancora in bilico per il programma dell'estate di Canale 5 A confermare questa incertezza ci ha pensato Filippo Bisciglia, da anni al timone della trasmissione Attraverso un'intervista su DpiuTV, l'amatissimo conduttore ha rivelato che al momento è ancora in attesa di ricevere una conferma da Maria Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video